Laboratori analisi certificati, cantine in miniatura per sperimentare nuove vini da mettere sul mercato e prodotti come i lievidi naturali per realizzarli, supporto dell'utilizzo di nuove tecnologie agricole. I produttori vitivinicoli dell'Oltrepo applaudono all'annuncio della regione sul rilancio di ricca gioia, ma al contempo si interrogano anche sul fatto che molti dei servizi di cui avrebbero bisogno, come un laboratorio di analisi certificato, che non li obblighi a portare i vini in Emilia, in Toscano, addirittura in Trentino per avere un nulla osta alla vendita, in realtà a ricca gioia c'erano già fino a pochi anni fa e oggi dovrebbero essere rimessi in funzione. La ricca gioia comunque è un edificio già formato e che comunque aveva tutto. Inoltrepo ci sono 13.500 eteri, credo che abbiamo bisogno assolutamente di avere dei laboratori sul territorio che riescano ad accorciare i tempi delle analisi per i DOC e quindi noi abbiamo bisogno assolutamente anche quello, oltre chiaramente a tutto il servizio che regione vuole mettere a disposizione. Quindi evviva, speriamo davvero che questo sia una nuova ripartenza di ricca gioia e che sia anche di tutto lustro per il nostro territorio. Ricca gioia aveva due importanti laboratori certificati seguiti da Unione Italiana Vini e dall'Università e erano stati selezionati anche ceppi di lieviti autotoni per la spumatizzazione. Poi microvinificazioni, ad esempio per noi come Buttafuoco sarebbe interessante fare delle prove di vinificazione delle quattro uve congiunte e quindi vedere anche le varie differenze durante la vinificazione. Quindi tantissime sono le prospettive. Purtroppo in questi anni, dopo l'ultimo fallimento della società, ricca gioia è stata smantellata, ma è fondamentale che si torni a investire sul territorio, nel territorio, con la ricerca e con l'Università. La promessa di riattivare la ricerca scientifica e la sperimentazione di nuove tecnologie nell'ottica di una maggiore sostenibilità delle culture, anche alla luce dei cambiamenti climatici, è raccolta con favore anche dalle aziende che ormai da decenni hanno sposato la produzione biologica. Il clima è cambiato e la ricerca per arrivare in un'agricoltura più adeguata ai climi attuali è importante. Noi siamo certificati bio già da 18 anni, crediamo molto in questa tipologia di coltivazione del terreno di rispetto di persone e natura. e tutte quelle ricerche, tutti quegli studi che possono portare a una sostenibilità migliore, a un'agricoltura più green, per noi sono molto importanti nel nostro territorio, sia per la valorizzazione dei terreni ma anche per la salute degli agricoltori e di chi ci vive.